Onorevole Berlusconi, è in linea? Eccomi qua Sanzoro Buonasera, la salute Allora, complimenti per questi processi in diretta Va bene, lasciamo le battute al loro tempo Allora, non attori nessun vincolo politico perché siamo assolutamente allibiti di come la RAI che dovrebbe fare il servizio pubblico usi queste cosiddette trasmissioni di approfondimento politico specie durante una campagna elettorale Vuole fare un dibattito con me Berlusconi, dobbiamo andare da Costanzo in territorio neutro? No, non è che lei mi lasciasse la concotesia Perché lei prima dice ai suoi di non venire, poi dopo dice che non rimuove il vincolo Ma certo, ma non devono venire in trasmissioni tra bocchetto che sono costruite apposta per fare dei tifrezzi che invece si devono svolgere nelle aule dei tribunali Sono a sua disposizione sulle re di Mediaset No, è lei che continua Per favore, io non intervengo da politico, come politico abbiamo già detto la nostra e noi continueremo a non intervenire nelle trasmissioni della RAI finché non ci saranno delle garanzie che ci garantiranno di non dover cadere in trasmissioni trappola Allora, mi dispiace, io chiudo, chiedo alla regia No, non come la sua No, chiudo il collegamento telefonico, mi dispiace Non si può accettare questa sua posizione Allora, se lei non rimuove il vincolo, lei non può parlare stasera D'accordo Contenga Contenga